Dammi solo un minuto Amici di Start, un breve aggiornamento sulla strada che costeggia la Villa Garibaldi e sale al quartiere Casalotto che avevamo segnalato alcuni giorni fa per la sua sporcizia Bene, la strada è stata ripulita Come vedete le erbacce sono state tolte, l'immondizia che ce l'è stata eliminata Rimane solamente quello che vedete a terra e del materiale che non poteva essere ritirato per una questione di smaltimento ma verrà successivamente elevato, così mi hanno detto Ma comunque era piena di erbacce, se vi ricordate era piena di cartacce e di spazzatura Anche il seggiolino che si trovava qui non c'è più Tutto è stato raccolto, si trova in quell'angolo e presto verranno chiaramente a ritirarlo Beh, ringraziamo l'amministrazione e ringraziamo ovviamente la Tecra